Forse non tutti sanno che in Italia esiste un'azienda molto particolare, un'azienda dove durante i colloqui di selezione è possibile raccontare qualunque tipo di frottola e di balla immaginabile, è addirittura possibile presentarsi senza alcun tipo di esperienza o di curriculum. La cosa poi fantastica di questa azienda è che nel caso in cui si venga assunti non c'è la possibilità o il pericolo di essere licenziati, neanche se dimostri poi di non avere alcune di quelle competenze che si sono vantate durante il colloquio. Addirittura non c'è la possibilità di essere licenziato neanche se si dimostri di essere totalmente inadeguato e in alcuni casi addirittura dannoso per l'azienda stessa. Ora, in considerazione del fatto che personalmente sono un azionista e ho degli interessi diretti in questa azienda, come peraltro la maggior parte di voi che state guardando questo video e che quindi pagate le imposte, direi che la posizione in oggetto prevede una RA di circa 120.000 euro più svariati benefit e quindi avrei pensato di rivedere leggermente le procedure di assunzione. La prima cosa che farei, ad esempio, sarebbe quella di inserire un periodo di prova. Ad esempio, perché non inserire un periodo di prova anche per i politici? Considerando che il 25 settembre ne dovremmo assumere circa 600, ci penserei.